Ciao a tutti. Sono nel castello della Rovere di Vinovo, un edificio medievale, poi riadattato in stile rinascimentale dal cardinale Domenico della Rovere sul finire del Quattrocento. Questo edificio poi ha subito molti rimaneggiamenti e anche variazioni d'uso. Alla fine del Settecento diventò una fabbrica di porcellane di una qualità direi analoga a quelle di Sevres, di Meissen e di Limoges. Questa fabbrica, dopo una prima fase iniziale, venne affidata a un arcanista, come veniva chiamato, il dottor Vittorio Amedeo Gioannetti, che con la sua esperienza di chimico riuscì a elaborare ancora una porcellana di qualità estremamente superiore. A Gioannetti, tra l'altro, abbiamo dedicato all'interno di questo castello uno spazio nella mostra Abovo, luci, misteri e alchimie. È una mostra che si apre qui nel castello il 13 aprile e che rimarrà aperta fino al 2 giugno 2024. Ecco, a questa costruzione, diciamo, di questo spazio dedicato a Gioannetti ha collaborato il dottor Massimiliano Brunetto, che è uno storico locale, che ha dedicato molti anni della sua vita alla ricerca sulla storia del territorio, e ha scritto numerosi articoli su svariati argomenti di storia locale e ha collaborato a una, direi, una grandiosa mostra, l'oro bianco, la ricerca delle bellezze, dedicata proprio alle porcellane di vinovo. Ecco, Max, io lo chiamo così amichevolmente, ha portato alcuni oggetti veramente preziosi. Però ne parliamo tra un attimo. Adesso chiediamo a Max perché e che cosa significava essere un arcanista alla fine del Settecento. Grazie e grazie dell'ospitalità all'interno di questa nuova bella mostra che si sta costruendo. L'arcanista. L'arcanista nel Settecento, arcanum deriva il termine, deriva dal latino, arcanum segreto. L'arcanista letteralmente era colui che aveva un segreto, che portava un segreto, che deteneva un segreto. Nel nostro ambito di ricerca collegato alla mostra, l'arcanista, diciamo che il primo, è stato, e va ricordato, all'inizio del Settecento, nel Settecento Uno, Bodger. Bodger era la corte, al servizio della corte del grande elettore di Sassonia, Augusto il Forte, e fu colui che svelò il segreto, il segreto per Antonomasia, ovvero determinò che per comporre la porcellana, oltre al quarzo, al fespato, ci andava l'elemento che in Oriente conoscevano già da tempo, ma che non hanno mai svelato, cioè il caolino. Quindi lui che era un alchimista, perché era colui un incrocio tra l'antesignano chimico e una via di mezzo con uno stregone, offriva i suoi servigi nella ricerca di quello che avrebbe arricchito in maniera smisurata qualsiasi corte se fosse stata trovata, cioè la pietra filosofare, la capacità di mutare i vili metalli in oro. Ovviamente nessuno ci riuscì, ma l'alchimia tra le varie funzioni aveva questa, questa ricerca. E proprio in quest'ambito lui inciampa letteralmente nel caolino, trova la ricetta della porcellana e diventa il primo arcanista. Quindi l'arcano è il segreto. A Vinovo, ovviamente, chi porta l'arcano sarà prima l'annonga, il saziano, e poi il più bello, il più ricercato, il più vicino a quello orientale, ovvero Vittorio Medeo Gioanetti. Ecco, sappiamo che Gioanetti, nella seconda metà del Settecento, svolse in Piemonte importanti ricerche sulle acque minerali e sulla produzione di zucchero dalle piante di melica. Era uno stimatissimo chimico. La cosa curiosa che ci incuriosisce è com'è arrivato a dirigere la fabbrica di porcellane di Vinovo, che già esisteva. Il Vittorio Medeo Gioanetti è una figura veramente completa, perché lui nasce a Torino, una famiglia borghese, il papà era il direttore della Manifattura dei Tabacchi di Torino, Vittorio Medeo già nel nome, abbiamo un omaggio a Casa Savoia. Lui diventa medico, a Torino esercita in quella zona di Torino più malsana, quindi nella confluenza tra il Po e la Dora, quindi una zona all'epoca sicuramente dove si è fatto le ossa. Ma da sempre la sua passione era quella di nascondersi all'interno dei laboratori galenici delle farmacie e sperimentare. Questo perché all'epoca la chimica era una scienza osteggiata, era la scienza del diavolo, era una scienza perseguitata dalla Chiesa, quindi non era proprio possibile fare la ruce del sole. Quindi lui si fa conoscere nella borghesia torinese perché elabora diversi rimedi per i malanni dell'epoca, delle madamine di Torino. Ci sono anche degli aneddoti successi in farmacie interessanti, simpatici. Facendosi conoscere, si fa conoscere a corte, gli vengono fidati questi lavori che citavi, tra cui l'andare ad analizzare le acque del Piemonte e della Valle d'Aosta, ad esempio. Viene chiamato come perito in un processo e grazie alla sua perizia sul veleno riesce a salvare un condannato a morte dalla pena perché lui determina che quel veleno non era stato usato grazie alla sua perizia chimica. Di più, di più, pochi lo sanno, ma lui riesce a salvare il regno di Sardegna dell'epoca da un tracollo economico perché la sua perizia sul sale conservato dagli svizzeri fa sì che la causa fosse vinta dal regno di Sardegna e non dagli svizzeri. Quindi ha fatto risparmiare anche dei bei soldini. Facendosi conoscere così a corte, cosa succede? Che i Savoia vogliono avere la loro manifattura di porcellane perché sporta bellezza, doni diplomatici, possedere l'arcano. L'esperienza di Vizche fallisce e dal 1776 al 1779 in questo castello che era in disponibilità del reggio patrimonio viene questo assaziano Annong, Pier Antoine Annong, con Brodel, un sensale di Torino e producono la porcellana la prima volta. Il re, Vittorio Medeo III, dà lo strumento, le regge patenti, che sono queste. Vai a Vinovo, fammi la porcellana, marchiala con la V di Vinovo e la Croce Sabauda e per vent'anni tu puoi usare castello, mulino, giardino, parco e farmi la porcellana. L'esperienza fallisce, non perché la porcellana non fosse buona ma perché l'Annong era un pochino furbetto, insomma a livello imprenditoriale era un po' così, aveva già venduto il segreto, l'arcano, in Francia e arriva quindi dal 1779, lui inizia a produrre nel 1780, come direttore della manifattura delle porcellane Sabauda arriva Vittorio Medeo Gioanetti, che era stato appunto apprezzato e conosciuto, nonostante il suo carattere rustico, a corte per i suoi servigi dati. Come vedete Max, il dottor Massimiliano Brunetto, è veramente un grande esperto e nel corso degli anni ha avuto anche, diciamo, la fortuna ma anche la costanza di cercare e trovare oggetti appartenuti a Vittorio Medeo Gioanetti. Oggetti preziosi che verranno poi esposti all'interno della mostra a bovo, luci, misteri e alchimie. Ce ne ha portati alcuni da farci vedere e sarebbe interessante se tu se li mostrassi fisicamente e anche li commentassi. Te li passo, sono cose delicatissime, fragilissime, quindi li usiamo le mani della domenica, come si dice. Iniziamo con piacere a far vedere questa tazza, fa parte di un servizio, molto bella, l'ho portata perché intanto sotto si può vedere il marchio Vinovo, Vicon Croce, che dicevamo. Il periodo è quello Gioanetti e sappiamo anche che era tra le sue preferite. Perché? Perché lui amava moltissimo questo colore. Noi immaginiamo questo parco del castello dove arrivavano i minerali provenienti dalla Val Soana, dalla Val Chisone, le terre, le argille. Arrivava tutto quanto qua, veniva macinato nel mulino di Vinovo che c'è ancora, veniva creata la polvere. Esiste ancora il mulino? Il mulino c'è ancora e da lì, faceva parte delle pertinenze del castello, riuscivo a trovare e elaborare questo colore blu molto intenso che decora questi fiordalisi molto fini, che era tra i preferiti di Vittorio Medio Gioanetti e non solo, abbiamo anche il bordino. Quindi questa è una tazza da servizio elegante, bella, del periodo Gioanetti, stimabile appunto per il colore. E poi ho portato invece una chicca, perché iniziamo da dietro, ecco dietro si vede la V con croce, quindi Vinovo, ma DG. I pezzi che faceva lui personalmente, quindi quelli più importanti per l'arta aristocrazia, per casa reale, erano firmati DG, dottor Gioanetti, appunto perché lui era un medico, dottor Gioanetti, no? E davanti abbiamo questo decoro paesino, forse del Tamieti, questo non si sa, uno dei grandi direttori della manifattura di Vinovo, e con questo bellissimo uso del colore, molto fine. E poi il bordo, il bordo è interessante perché è in oro, e l'oro arrivava da Venezia. Quindi da Venezia Vittorio Medio Gioanetti faceva arrivare per la manifattura di Vinovo, per le sue porcellane, l'oro, perché aveva questo pregio di essere più plasmabile per ricoprire appunto i bordi delle porcellane, dei manufatti che creava. Dunque Max, raccontate in questo modo la figura dell'arcanista, è vero, deriva dall'alchimia, però sembra più un chimico specializzato. Però so che tu, nelle tue ricerche, hai trovato qualcosa di veramente di più profondo, cioè un documento autentico, firmato dal dottor Gioanetti, che, diciamo, testimonia la sua appartenenza a una fratellanza esoterica. E quindi viene da pensare, come in altre situazioni, per esempio anche il principe di San Severo a Napoli, che era anche lui intrigato in questioni alchemiche e al contempo era legato a delle fratellanze esoteriche, viene da pensare che anche Gioanetti fosse implicato in questo tipo di fratellanze. E quindi ti invito a leggere questo prezioso documento che hai trovato. Io ti tengo il microfono, o lo tieni tu. E poi magari ce lo commenti, perché è veramente intrigante questa cosa. Volentieri. Carissimo amico, coraggio amico che le cervelle si veggono, fra mezzo a tanti guai che io acudisco assiduamente al grande Lizzirio, il quale, con la benedizione di Dio, fra mezzo alle disgrazie, fa passi da gigante. E trovasi ora mai a buon porto. Ma se parto da questo castello, prima che lo abbia terminato, tota fortuna domus e tota abbezzerata famiglia, Così, sostenetemi bene, totis viribus, se volete che io possa contribuire alla felicità di tutti gli amici. Non pigliate questo in aire ridicolo, perché parlo da senno e fondatamente, e credete pure che so più di quello che comunemente si sa e dove il diavolo tiene la coda. Vinovo, 5 marzo 1786. Ecco, è interessantissimo questa letta. Quando parla dell'Elizzirio, ovviamente, si riferisce alla pietra filosofale. Sì, l'Elizzirio è il riferimento chiaro alla pietra filosofale. Vittorio Medogianetti faceva parte della massoneria, che all'epoca era intesa anche come spazio di condivisione, di esperienza, di ricerca. Abbiamo anche il marchese Birago di Vische, che era colui che aveva l'arcanum di Vische, la prima manifattura di porcellana che citavo. e il maggiordomo di Anticamera del Re, quindi una persona molto vicina a Vittorio Medio III. Quindi lui faceva parte di questa loggia massonica, che era San Gian della Misteriose, una della più vecchia di Torino, provenienti da Lione. E questo è assodato. Ma questa lettera ci dimostra anche che molto probabilmente lui faceva parte di una delle tante, numerose, società segrete in cui l'alchimia la faceva da padrone. E secondo me lo possiamo vedere anche dal simbolo che Vittorio Medio Giovanetti disegna di sua mano. Sì, mostriamolo. In sostanza c'è un euroboros. Ecco, intanto lui manda la lettera a un suo grandissimo amico, nonché protettore, che era Ghigliossi di Lemie. Il conte Ghigliossi di Lemie, che era il presidente del Consolato di Commercio. e dedica anche a lui dei manufatti che sono conservati a Palazzo Madama come servizio. E il simbolo che lui disegna è composto da un euroboro, quindi è un serpente che si mangia la propria coda, è un cerchio quindi, è simbolo di rinascita, di ciclicità, di ritorno alla vita. Deriva dalla crisopeia di Clopata, no? Esatto. Esatto. Di origine Alessandrina. E tra l'altro, ritorno alla vita, in questo castello mi viene in mente c'è l'Araba Fenice, cioè in una sala, che insomma, chi viene a vedere la mossa potrà ammirare. Poi all'interno di questo euroboro, simbolo di ciclicità, appunto, c'è questo esalfa, quindi ci sono questi triangoli che si intersecano tra di loro, con i vertici, che sono rivolti verso l'alto e verso il basso. Verso l'alto ci simboleggia l'universo maschile, quindi la virilità, la forza. Verso il basso, invece, ricorda la forma dell'addome femminile, e quindi ci ricorda, appunto, la figura femminile. Quindi maschio e femmina che si intersecano fra di loro, l'equilibrio. Dei due mondi. Dei due mondi, esatto. I due mondi, perché in realtà nella tavola di Smeraldo è citato esplicitamente come sopra, come sotto, per fare il miracolo della cosa unica. Esatto. E la cosa unica è rappresentata dal simbolo centrale, che è il mercurio dei filosofi. Quindi il rebis alchemico, o l'erigi, viene chiamato in tantissimi modi. Beh, guarda, ho preso come pro memoria la rivista Fenix, perché Fenix è un media sponsor della mostra a Bovo, ma ti inviterei a scrivere un bel articolo per questa rivista, su questo argomento. Ma tornando agli, diciamo, non tanto agli esperimenti, perché io ho letto in una biografia su Giovanetti, uscita pochi anni dopo la sua morte, nel 1824, che lui in realtà era molto più quello che studiava che quello che raccontava. E probabilmente anche questa sua segretezza ha dato origine poi a delle leggende popolari che tu hai approfondito, hai raccolto, e credo che sia anche interessante raccontarle al nostro pubblico. Certo, la figura di Giovanetti è molto misteriosa, è ancora da indagare, insomma, ci lascia tante tracce. La prima che mi viene in mente, appunto, nella lettera c'è l'Uroboro, rinascita, ciclicità. Giovanetti credeva nella reincarnazione. Una delle leggende dice, appunto, che lui abbia lasciato detto, probabilmente alla moglie, perché nel 1799 ha sposato Anna Maria Battaglino, molto più giovane di lui, da cui avrà otto figli. Lui lascia detto, guarda, c'è una biografia che dice due, ma ne abbiamo trovata una sola certa, quindi Anna Maria Battaglino, secondo me era già tanto per lui, perché era più dedito, appunto, alla ricerca che non all'amore. Ha fatto otto figli. Però ci sarebbe la seconda parte della storia da raccontare, dove c'è un vinovese famoso in mezzo. Non abbiamo il DNA. Comunque, Vittorio Medioglietti dice, in punto di morte, che vuole essere sepolto in un'urna, e quest'urna vuole che sia ricoperta di letame. Anche qui, rinascita, perché così lui poteva reincarnarsi, ritornare alla scienza, a cercare il grande lizirio, a finire la ricerca. Anche qui, la terra, elemento naturale, alchemico di per sé, rinascita, ciclo della vita. Quindi l'elemento del circolo degli elementi, che girano. Il letame anche come forma di calore costante. E poi l'altra leggenda interessante è quella, quindi questa è detta quella dell'urna dell'etame. Ancora due leggende, una più una facezia. La porcellana ha sempre degli ingredienti segreti, quindi oltre al quarzo, al caolino e al felspato, una parte segreta. A Vinovo si dice che la parte segreta era legata a questi sassolini bianchi, che il Gioanetti raccoglieva, o faceva raccogliere da dei fanciulli, e dei fanciulli c'erano, perché per volontà regia gli orfanelli di Torino venivano mandati a Vinovo a raccogliere tutto quello che serviva a fare le porcellane. Questi sassolini bianchi che c'erano sul gretto del Chisola venivano messi nell'impasto delle porcellane, rendendo le porcellane del Gioanetti quelle più verosimilmente vicine e legate a quelle orientali. Viene in mente il Ludus Poerorum dello Splendor Solis, che sono i bambini che giocano. C'è molto collegamento. E poi la leggenda che dice che in punto di morte lui, anche qui il tema della rinascita, chiede che venga chiamato un suo fido collaboratore, noi immaginiamo, l'ho citato prima, Lomello, questo vinovese che manderà avanti la manifattura all'ultimo periodo, chiama questo suo collaboratore e gli dice io sto morendo, con me porto i segreti, moriranno con me, ma se tu mi taglierai un dito, io in cambio ti svelerò la ricetta delle porcellane e io potrò rinascere. Quindi questa è la leggenda detta del dito mozzo. E si dice che nelle notti di nebbia, adesso a Vinavo ce n'è meno col mutamento climatico, ma una volta ce n'era di più, nelle notti di nebbia ci sia questa persona ammantata dal fare antico, dal parlare antico, che avvicina le persone e a un certo punto tira fuori un'accetta, chiedendo che gli si venga tagliato un dito. Potrebbe essere lo spirito di Vittorio Medeo Giovanetti che cerca questa pace. Questa la mandiamo a Giacobbo. Ma esiste la tomba di Giovanetti ancora qui a Vinavo? No, l'hai cercata sicuramente. L'ho cercata, sì, quando abbiamo fatto il documentario oro bianco, siamo scesi nelle cripte di San Desiderio e abbiamo cercato, perché il mio pensiero era, i vitrometri oggetti facevano anche i bottoni in porcellana, la porcellana non deperisce facilmente. Allora il mio pensiero è stato se trovo qualche bottone da gilet o qualche elemento in porcellana vestibile, magari è lui. Vittorio Medeo Giovanetti viene seppellito a Vinavo, e questo lo sappiamo, ma la sua tomba sparisce. C'è un libro che ha pubblicato il ritrovamento della tomba, ma non è vero, perché non sono i giovanetti legati a lui, sono un altro ramo, un'altra famiglia di giovanetti omonimi, di Nichelino, ma che hanno anche una tomba a Vinavo dietro l'opsidi di San Desiderio, ma non c'entrano niente con lui. Quindi la tomba del Giovanetti è curiosamente sparita. Sparita, nascosta. Nascosta, celata. Come l'alchimia. L'alchimia cela molte verità, molte cose. Bene, allora da questo splendido cortile io e il dottor Burnetto vi salutiamo e vi invitiamo naturalmente a venire alla mostra a Bovo Luci, Misteri e Alchimie, aperta dal 13 aprile al 2 giugno di quest'anno e dove naturalmente oltre a questa chicca, chiamiamola, non mi piace tanto il termine chicca, però questo è veramente un'esclusiva molto gustosa con gli oggetti prestati da Max, gentilmente, e molti altri materiali che collegano l'uovo all'alchimia, alla magia, alle religioni e ai miti di nascita e rinascita dell'antichità. Tante cose bellissime che potete vedere solo qua in un allestimento veramente spettacolare, immersivo, con ologrammi, videoproiezioni, veramente spettacolare. Abbiamo ricostruito anche un Atanor e da uno dei dipinti dei fregi rinascimentali dove c'è appunto la Fenice, l'arva Fenice che rinasce dai suoi ceneri, l'abbiamo messo in movimento, abbiamo costruito un Atanor alto 3 metri con il forno alchemico e all'interno dell'Atanor si brucia e rinasce e risorge l'arva Fenice. Vi aspettiamo qua a Venuovo, Castello della Rovere, 13 aprile 2 giugno 2024. Grazie Max per la collaborazione. Grazie a voi, grazie a te.